Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo leggissimo di Forcraft Oggi siamo qui con Eren Questo nuovo leggissimo di Forcraft Hai significato una parola, cretino Lozzo, non mi interessa Siamo in una nuova mappa E' la mappa di Di Attack on Titan, vero? Ah, pensavo fosse Masterchef No, no, magari Ragazzi Like per la mappa a tema Masterchef Non è la mappa di un medico in famiglia Comunque qualcuno che metta un timer che si sente c'è o non c'è? Lo mette Emerald che c'ha il timer rumoroso Alexa, metti un timer di 10 minuti e un secondo Che palle di questo secondo qui extra Non lo vuole mettere Eh, ha fatto il boom, si è sentito, si rifiuta Timer 10 minuti e un secondo Non lo vuole mettere, Taro Oh, Eren, Eren, metti un timer che qui Alexa è incapace Sì, sì, Alexa di lì di Sì, di succare E tornare a far canzoni Tac C'è un Alexa che fa canzoni? E' partito il timer? Sì, è partito il timer No, 3, 2, 1, è partito Yeah Aio No, non vale Dai, ragazzi Mi avete fatto partire in ritardo perché mi avete Eren di merda Eh? Ma scusi Allora, no Dani non puoi droppare subito sulle mura Cioè ti piace vincere facile Eh, infatti Ma che brinca la C'ho già l'arma L'ho fatto anch'io la prima partita Ma non si può, Eren Ma dai, che c'è sì che sì Non era mai stato specificato Dai, ragazzi, ma che fa? Ma va bene Dai, Gabibo E poi è tornato a curarsi indietro Un'altra cosa che non si può fare Ma scusa Ma non era nemmeno partito Tu mi hai picchiato ancora prima che partissima Cosa vuoi? Guarda come sono litigiosi questi bambini Mamma mia E poi chi ha mai detto che non si può fare? I millennials Eh, vabbè Ma perché mi avete chiccato? Per fare la gag finta Ma ora muore se stava volando No, 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 no Stavo sparando a tech Ah Ecco, hai fatto salvare tech Così, non va bene Abbiamo fatto tutto per il video di Tano Siamo a posto? No, devo andare in bagno Se volete vado No, no, quello quando muori vai a fare la cacchia E poi a bere la cioccolata, ok? Ok, sì, sì Ma no, no Ho soltanto le cose per farmi il tè Non ho quelle pade Ma perché ho schiacciato Vabbè, il tè Vabbè, comunque devi andare in bagno In bagno devo andare davvero Sì, ci vado adesso Ci vado adesso No, no, no Adesso vado a cercare Tiro L'ho uccito Facciamo uno scherzo Ma se io lo vedo Lo distruggo male, cavolo Aspetta, aspetta, aspetta Guarda Tano, posati Posati da qualche parte Tu sei a terra Sì Che sei impazzito Non si fa Non lo sape mai Non lo sape mai Killalo Gli faccio un colpettino No, no Fai una cosa La pressure plate Che tipo va avanti L'attiva e scoppia la TNT No, li sparo sulle palle Guarda Quindi se lo merito Andato in bagno Li sparo sul cazzo Cosa è stato di cera? Così non fiscia più La prossima volta Ok, ora Per favore Facciamo finta di niente Non è successo nulla Sì, sì Non è successo niente Tanti di anni Oh Come va la vita? No Cosa no? C'è il barret Ma tutto No, niente È successo una cosa Hai già il barret? Qualcuno vuole un cecchino Ce li ho tutti e tre Cecchini Se c'è uno del 96 Lo prendo Tu vuoi si Vuoi non scambiare qualcosa? Uomo Io penso Che questo sia Cheating Violento No dai no Però Come cazzo fai ad avere tutti i cecchini? Dai Tu hai appena ferito una persona Dopo un tp fraudulento Non è colpa mia Hai saputo danni E sei tornato sopra per curarti Era legge per quello che ho fatto Non è vero Si può E poi mi sarei curato nel posto dopo C'è il coso al centro della mappa Allora Siete illegali Voglio dire Se chiunque vince va bene Ma se vince Tano non vale No 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 Tano no A merda Oh Alezzo Che metti i vermetti Non vale Lo dico la maestra Non va non va Alla maestra lo dici? Si si Faccio la spia alla maestra Alla maestra Alla maestra Alla maestra Quella che è buona con la mano destra Non ho mai avuto maestra Davide con la mano destra Grazie a Dio Perché hai fatto le medie No nel senso che erano proprio con la sinistra E basta quindi sarebbe stato grave se erano Smettiamola Grazie Ehi Cosa trova Tano sappi che ti killerò Dai No bro No Io sono d'accordo Un zi Cioè me hai trovato un AUG E non ho prendo i proiettili? Ah Ne ho trovato un altro Rip Ho i proiettili Si ma era meglio avere un AUG con doppi proiettili Tu hai ragione Ma adesso torno indietro e li prendo A meno che non ci sia già stato Tano Perché anche Tano ha l'AUG E vuole colpi di AUG Tu sei già stato in un solo posto Vuoi sapere? All'inferno Ok dillo Mi piace questa cosa silenziosa Ma non ha senso Lo so Ma No raga ma seriamente Ma Tearless Cioè io all'inizio Ok la meme ci stava e tutto Ma è sparito veramente Cioè ragazzi qui Come al solito Cioè Io ho Ho messato la testa E domani Progetta Il flusso canalizzatore Capita anche a me Intanto di Canalizzare i flussi Madonna Tec Era Tec Allora Allora È successo questo Qualcuno mi sparava col Barrett Io scappo Mi trovo davanti Tec Le ho sparato due colpi E me ne sono andato da onesto cittadino Oh mio dio Ho riflettuto ora su una cosa Oh mio dio La safe No 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 la safe Vabbè No non ve lo dico mica Ma vi pare Non hai registrato No ma che cazzo Non sono ritardato Troppo bello Beh oddio No non sarebbe bello perché Cioè questo video è già Storico Sono ritardato a me Su questo No raga comunque no Stavo dicendo Raga due armature leggendali Non posso spoilerarmi le mosse E questo è il punto Quindi non voglio dirvi nulla Però Mi sono reso conto di Una cosa spicy Ecco quello si E adesso apro questo lucky block E ho trovato la cosa Che ucciderà Tanno Un RPG ho trovato Anch'io Beh una volta sono stato killato Ma porca Cosa No 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 Chi è il merdone? Raga, ma piovono polpette, fammi capire Che pone Oh, ho, ho Cioè, non ci sarebbe più il problema della fame nel mondo Beh, oddio Raga, io ho il doppio L96 E c'ho anche le munizioni esplosive del barrette No, del barrette, della minigar Ma non ho la minigar Oddio, è già, ma se non mi sto sparando Ah, lag 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 Aaaaaah Corri Corri, cazzo No, dai, vabbè È morto, io non ho caduto Ma come? Ma perché voglio tutti così? Raga, ma parco due Siete un branco di... E me ne è stato E me ne è stato Ma è morto qualcun altro, l'idea non ho caduto, scusate Sì, Darts Ah, ma raga Guarda, gli unici che stanno stati in piedi sono i quattro originals, come sempre Ma se tu hai preso danni pure rad piccolate da una a caso, dai Vabbè Che vai cagare E letteralmente ci sono andato Sì, ma te ci mando io a cagare Ok, cerchiamo la prossima vittima, ho capito Ah, Tano, 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 Tano Eh, Tano, Tano cosa? Cosa vuoi dal signor Tano? Tano, Tano Voglio la tua vita, Tano È un villano Un villager Adesso vado Vado a prendere qualcuno deciso Va bene Vieni a prendere me Foglia Foglia Eh, la miseria Eh, la miseria Ma sono passati dieci minuti o no? No Cioè, in verità In verità Dovrebbero essere passati da forse qualche secondo Che ce l'aveva il timer? Eh, manca cinquanta secondi Ok Goditi il loot, Tano Ma in verità è già tutta roba che avevo, cioè Ti? Sì 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 Eh, brutta storia, no? Se vuoi prendere qualcosa e ti do il cazzo No, no Sto E qui ce l'ho messo in tre Ah Cosa state combinando? Cioè, io nulla E qui qualcuno che c'è C'è gente che sfara a caso Vogliono fare simpatici, brillanti Eh dai, stiamo facendo un po' tutti i raspigni, eh? Sì, sì Qua stiamo raspando tantissimo, raghi Beh, tu pensa Ci abbiamo dei polliruspanti, raghi Tu pensa che Tano Cioè, mi hai inseguito perché non potete No, no, io non ti ho inseguito Tu, ti ho visto sotto Eeeh E poi a un certo punto tu mi sei volato sopra Eh sì E io ti ho sparato Mi sei passato tanto Non ti avremmo visto All'unico punto dove sta tutta la mappa Quando stringe Due secondi Ah Quindi possiamo Accendere, perfetto Il punto è, dove saranno gli altri Spice e lezzi Eh eh No, Tano È vero che non ho il jetpack E che Eheh 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 Te l'avevo io Che sarebbe No, vedo il jetpack Tano alla mini... Che pavolo Cosa? Io non ho nulla Non hai preso il mio jetpack? Quale jetpack? Tano alla minigana esclusiva Scusa ma hai preso anche chi stavo volando Sta... Sta usando solo quella Perché non è in grado di fare altro Lolleriii Guarda che invidioso! Non c'è... No, hai medikit te invece Non ci credo uomo Quanta cazzo di vita hai ancora? Quanti medikit t'avevi? Tano, cioè Il tuo... La tua idea di... Di combattimento è questa? Sì, ovvio Che codardo Vigliacco! Vigliacco! Affrontami merda! Va bene Porca miseria Mi ha levato tutta la vita! Ehi cazzo Io ero già ferito Infame Io infame? Tu mi hai affrontato Lo sai che non si affronta un... Non si... Ecco Hai capito? Beh? L'ha capito lui E' vero E' rimasto il Tearless E basta Tearless Oh cazzo Porca puttana! Tearless dove sei? Tearless 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 Qua sei le campi Tearless Tearless Adesso Tearless Adesso Come hai fatto? Come... Ora... Fermati Come cazzo sei fatto a morire di danno da caduta? Mi sa che l'hai fatto con l'esplosione sotto della munizione E sono saltato poi... Cioè non lo so Ovviamente sono caduto giù